Grazie a tutti. Al quinto posto c'è il Fiorentina con 17 punti. Al sesto posto c'è l'Atalanta con 16 punti. Al settimo posto c'è il Roma con 14 punti. All'ottavo posto c'è il Bologna con 14 punti. Al nono posto c'è il Lazio con 13 punti. Al decimo posto c'è il Lecce con 13 punti. All'undicesimo posto c'è il Monza con 12 punti. Al dodicesimo posto c'è il Frosinone con 12 punti. Al tredicesimo posto c'è il Sassuolo con 10 punti. Al quattordicesimo posto c'è il Torino con 9 punti. Al quindicesimo posto c'è il Genoa con 8 punti. Al sedicesimo posto c'è l'Ellas Verona con 8 punti. Al diciassettesimo posto c'è l'Empoli con 7 punti. All'ottavo posto c'è l'Udinese con 6 punti. Al diciannovesimo posto c'è il Salernitana con 4 punti. Alla ventesima posto c'è lo Cagliari con 3 punti.